Sono amici dei bambini. Sì, grazie, grazie dell'invito. Ma sì, era necessario un po' trovarci, perché ormai sono tanti anni che non ci incontreremo più. Fra noi operatori e intervento del magistrato Giannello lo ha confermato. Io credo che sia necessario riprendere la possibilità degli incontri fra chi l'adozione internazionale la vive giorno per giorno e chi poi è chiamato ad applicarla. E avevate chiesto di dire, evidenziare quali sono le cose che vanno e le cose che non vanno. Io credo che le cose che non vadano, sia in modo particolare un approccio culturale che impermia oggi sia l'adozione internazionale e sia quella nazionale. Innanzitutto, l'abbandono non viene considerato come una emergenza umanitaria, perché di abbandono non si muore. Per cui l'emergenza umanitaria sono la denutrizione, perché il bambino muore, sono le malattie, perché lì si muore, sono i bambini in guerra, perché lì si muore, il grande dramma dell'educazione scolastica. Se non c'è la scuola non si possono essere delle persone. Ma l'abbandono no, non si muore di abbandono. Si sopravvive negli istituti, nelle case famiglie, nelle famiglie affidatari. Si sopravvive. Salvo poi, a 18 anni, e capita anche in Italia, perché i procedimenti amministrativi sono sempre, sempre più rari, a 18 anni non si è più bambini. Si diventa adulti e si trova letteralmente in mezzo ad una strada. E lì incomincia il fenomeno. Noi abbiamo dei dati impressionanti. Abbiamo fatto tre ricerche. Una a San Paolo del Brasile, una in Russia e l'ultima in Marocco, a Rabat. Nei primi due casi l'80% di questi minori non ce la fanno. In Marocco il 90%. Cosa vuol dire che non ce la fanno? Suicidi. Cioè ci siamo meravigliati ieri del suicidio della ragazza da Danimarca. Danimarca. Dell'Olanda, dell'Olanda. Il 90% di coloro che escono dagli istituti del Marocco, e sono più di 100.000, al compimento del 18esmo anno di età, non ce la fanno, si ammazzano come dei vitelli. Le più belle vengono prese nel dramma della prostituzione. L'organizzazione internazionale del crimine è quanto mai afferrata. E' adesso l'ultima, di questi ultimi tempi, il terrorismo, l'ISIS, che entra dentro con questi suoi messaggi. Per cui non è vero che non si muore. Si muore dopo, non si muore prima. E allora stiamo tentando culturalmente di far capire che l'abbandono è un'emergenza umanitaria. In che maniera? Cercando di abbattere questi stereotipi. E' uno fondamentale, anche oggi l'ho sentito, non ci sono bambini abbandonati nel mondo. Allora, ieri noi abbiamo ricevuto dalla Moldova, e siamo in Europa, una lista con 476 minori dichiarati adottabili. Certamente, guardiamo l'età. Il più giovane ha 13 anni. Ma andiamo dentro, vediamo le storie. bambini entrati in istituto a un anno, a due anni, a tre anni, e mi fermo lì. Il mese precedente, il Peru, 250 bambini, una lista uguale, precisa, identica. E potrei continuare fino a stasera. Tant'è vero che adesso la passerella che tanto ha scandalizzato, la passerella del Mato Grosso, in Brasile, che tanto ha scandalizzato i buon pensanti. Ma parlate con quei ragazzi lì. Parlate con loro. Ma io sono disposto anche, e il fratto l'hanno organizzata, un'associazione dei genitori adottivi nazionali. Perché sono disperati. L'anno scorso le autorità federali del Brasile ci sono incontrate con tutte le SSI, le autorità centrali, perché non sanno più cosa fare con i bambini ammandolati. Il problema è che non sono dichiarati adottabili. E allora qui perché? Perché non interessa nessuno, ma ci siamo mai chiesti. Perché l'UNICEF, non abbia mai redatto un rapporto sullo stato d'abbandono dei bambini. Mai! C'è solamente un vecchissimo rapporto dell'ONU del 2009, e poi non l'ha più fatto, che dice che se dovessimo dare una famiglia solamente ai bambini i cui genitori sono morti per AIDS, dell'Africa, solo dell'Africa, noi avremmo bisogno di 12 milioni e 500 mila genitori. Quindi non è vero che non ci sono bambini ammandolati, non ci sono bambini adottabili, ma la colpa è nostra! La colpa è di noi adulti, che abbiamo creato questa categoria dei bambini del limbo. E allora una delle richieste che noi stiamo avanzando veloce, perché ci sarebbe magari da fare anche un approfondimento su queste cose, no? Ma scambiandoci queste informazioni, perché bisogna conoscere la realtà dell'abbandono nel mondo. Una delle richieste che noi stiamo avanzando è il riconoscimento dello status giuridico del minore fuori famiglia, compreso anche il diritto, avvocato Torrisi, al risarcimento del danno nei confronti di magistrati, nei confronti dello Stato, se tu mi hai tenuto volontariamente dentro nell'istituto, dentro nella casa famiglia. E un'altra delle proposte che porteremo, sperando che la legislatura resti, è l'avvocato del minore, perché il minore è l'unica persona al mondo che non può nominarsi un avvocato difensore. Perché il magistrato non è il tutore del minore, è un terzo. Quando si crea il processo, l'azione giudiziaria fra i genitori e tutti i parenti abbiamo sentito il terzo e il quarto grado, e il minore, il giudice è un terzo giustamente, il minore non ha il suo avvocato. E noi stiamo presentando, c'è una legge, ma non è finanziata, stiamo presentando veramente la possibilità. Ecco, finisco perché il tempo poi è finito. ringrazio perché usciamo da un periodo in cui siamo veramente stanchi, affaticati, in un periodo in cui si è cercato di distruggere l'adozione internazionale. Cioè, a tutti noto, questa vicenda che ha coinvolto il motore, la commissione adozione internazionale, che ha letteralmente distrutto con la idea stessa di adozione internazionale. Per cui lei diceva che sono poche le famiglie, sono poche le famiglie, o sono tanti, diceva lei, ma sono pochissime le famiglie che si vedono padri e madri di un bambino non loro. Perché, non so se voi avete l'idea di quanto è sino oggi in Italia le coppie sposate senza figli. Sono, dati censimento 2011, quindi molto vecchi, sono 5.430.000, cioè un terzo delle coppie sposate, di cui si stima che 3 milioni siano coppie sterili. Di questo grande esercito, l'anno scorso, hanno avanzato domanda di adozione internazionale solamente 2.800 coppie. Niente. Allora, io dico, e questo è un discorso che scandalizza i magistrati, le scandalizza. Per me, queste coppie sono già idonee. Perché già si vedono padri e madri di un figlio non loro, ma non sanno che cos'è l'adozione internazionale, non ne conoscono le bellezze e le difficoltà. Allora, non sono coppie che vanno selezionate. No, e qui veramente lo dico proprio da genitore e da nonno adottivo. Sono coppie che vanno accompagnate, che vanno prese per mano, che vanno perché veramente si sentono già padri e madri, ma non sanno che cosa voglia dire allora, che cosa serve sottoporre queste coppie a 25 colloqui dallo psicologo. Ma che cos'è allora? Cioè, il diventare padre e madre di un figlio abbandonato che cos'è? una psico... una patologia? Ma una patologia? Ma chi è che deve andare dallo psicologo 25 volte per sapere il padre, il nonno, il nonno è qui, è la zia, è la controsia? Perché la domanda è più difficile, no? Adesso faccio io il magistrato. La domanda è più difficile di dire perché tu adotti? qualunque risposta tu dia ti prendono sempre in castagna. Ti prendono sempre in castagna perché noi siamo immersi nella cultura della selezione. Un'altra cosa che fa scandalizzare e noi lo stiamo proponendo e non l'abbiamo capito perché l'Italia sia l'unico paese in Europa visto che tanto parliamo di Europa in cui sia necessario per poter adottare un bambino straniero ottenere l'idoneità giudiziaria e non quella amministrativa perché ma cosa c'entra un giudice? Ma che cosa c'entra un magistrato nel capire e nell'accompagnarmi verso un atto di amore? Questo è un dibattito, è un dibattito ma il problema caro dottore è che abbiamo smesso di dibattere non ci conosciamo più allora mi dovete dire perché il tribunale di Venezia il tribunale di Roma emette i decreti vincolati 0,3 anni 0,6 anni se noi vediamo delle coppie che arrivano di 50 anni con il decreto 0,6 e questi prendono l'idoneità e la stracciano perché all'estero nessuno li vuole perché quello che non si è ancora capito è che l'adozione internazionale viene fatta all'estero da quei magistrati noi abbiamo fatto una volta una causa contro il tribunale di Ancona perché aveva messo coppie idonee ma non un bambino di colore come un bambino di colore ma figuratevi questo decreto vede in mano a un magistrato brasiliano e dice te questa coppia italiana non vuole un bambino di colore ma che ha dotto in Italia perché viene in Brasile e l'abbiamo vinta l'abbiamo vinta neanche in cresazione subito allora l'invito è finisco perché ho già esorbitato l'invito è moltiplichiamo questi incontri di conoscenza lei l'ha detta giustamente i nostri poveri operatori non sanno più che cos'è l'adozione internazionale noi riceviamo grazie noi riceviamo relazioni sì perché io mi accoloro perché noi qui siamo noi qua le cose le crediamo le viviamo però la vogliamo noi viviamo per cui veramente le buttiamo lì perché ci crediamo perché è bello quello che è stato detto oggi un bambino abbandonato non cambia il mondo ma per lui cambia la vita combatte la sua guerra ha vinto ha vinto la sua vita allora mettiamole insieme queste forze ci capito di avere relazioni dai servizi che dicono ancora il bambino bello biondo e sano perché non è neanche colpa loro perché lei c'è capelli bianchi come i miei si ricorderà quando è partita dalla 476 abbiamo fatto i famosi incontri di Montecatini promossi dalla CAI dove le quattro gambe del tavolo magistrati enti autorizzati operatori sociali regione quindi e CAI si sono trovati per settimane e settimane per confrontarsi e da lì è partita la cultura dell'azione poi abbiamo smesso di parlarci per cui voi mandate a noi delle coppie che staranno lì anni e anni anni e anni perché non sono state preparate né formate su che cos'è l'adozione internazionale chiudo qui grazie a tutti e grazie a tutti grazie grazie a Grittini presidente dell'associazione amici dei bambini mi chiedono di far intervenire il professor Iaco Angeli ci scusiamo dove va? è lì? ecco no è andato via il professor Iaco Angeli